E' tempo di vacanze e tempo di mare, e anche il tempo di aprire questo set qua che è da un po' che ce l'ho lì, da qualche anno che l'ho comprato e non l'ho mai aperto, ho tenuto lì e ho detto ma si troviamo l'occasione poi per aprirlo, e beh qua è l'occasione migliore che una bella vacanza, e questo è un set vedete della Matchbox con il furgoncino della Volkswagen, ce ne ho questi due set qua, uno da lavoro e uno da vacanza. Lo specifico questo è il surfista, lo apriamo, dai vediamo un po' così, così vediamo un attimino, vedo un po' che ce l'ho lì, effettivamente non l'ho aperto. Allora intanto, mentre l'altro sul canale, e per questo per agosto, apriamo questo set Super Stigua, vediamo un po' com'è composto. Intanto vediamo qua la grafica, vedete che bella la grafica, eccola lì, allora è composto da questo furgoncino qua, Volkswagen, e questo è il Volkswagen Transporter Crew Cab, col gancio, un pick up, vedete addirittura, qua dentro c'è, c'è un, per un man, c'è un, con un mariscotto, delle catene, una sacca, con tutte le scritte qua sul fianco, anche il logo Bear, mi sembra, questo qua, il logo della Bear, che se avete visto il mercoledì da Leoni era il logo della, di Bear, di il signor Bear, quello che faceva le tavole, che poi è diventato un logo italiano, l'ha acquistato un amico che ce l'aveva tanti anni fa, adesso non so che, di chi ha più di proprietà, forse della, 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 Gisalfa, forse adesso, logo Bear, è un logo da surfisti, e poi la sua rullottina, abbiamo col gancio, il gancio è un po' poco profondo, è veramente un gancetto, è un po' poco profondo, e abbiamo la sua rullottina, invece è bella, è enorme, questa rullott qua, addirittura condizionata, vedete qua c'è la ventola, bumbole davanti, ma è un bello rullotto questa, forse nella realtà, ecco la, qualcosa sopra trasparente, eccola qua, questo è il set, però poi ci sono anche, il tavola è la surf, il longboard, addirittura l'onda, con il surfista da, metterci dentro, che dovrebbe essere così, perché segue l'onda, surfa l'onda, eccolo qua, il surfista, sicuramente sarebbe, talmente piccolo, quindi da in lontananza, no? la giufa surfer, e qui, la sua compagna, un capellino, una bibita, le cuffiette, che prende il, il sole, la tavola da surf, la compagna che prende il sole, ecco, questo è il team da spiaggia, eh? il team da spiaggia, guardiamo un po', della matchbox, eccolo qua, da un po' che ce l'avevo lì, non l'avevo aperto, io ho detto, qual'occasione migliore per questo punto, ferragosto, ecco qua, guardate che bella, era in vendita, fino a qualche, mese fa, anche, forse un anno fa, e, infatti, da, più di un anno addirittura, che ce l'ho, e non l'ho mai aperto, questa tavola da surf, tutti i longboard, lui, io ce la surfando con uno short, vedete l'onda, è un tubo, così, e questo, il tubo è una delle, insomma, delle, quello che cerca il surfista, quando entra in un tubo, la green, la green room, si chiama, e la manovra più bella, in assoluto, no, l'emozione più bella, quella di entrare in un tubo, farsi il tubo, tipo pipeline, che è un'onda alla Hawaii, sulla North Shore, Hawaii, pipeline, forma un tubo bellissimo, pericoloso, bellissimo, ma lunghissimo, cioè pipeline e backdoor, che, praticamente, sono i due lati della, dell'onda, no, che conosco molto bene, e forma un tubo pazzesco, più verde, quando sei dentro, è incredibile, però, è anche molto veloce, è pericoloso, quindi deve essere bravo, perché, è facile volare, fare un wipe out, e finire sugli scogli, che, che si sommergono dall'acqua, che arrivano su un filo d'acqua, vabbè, a parte questa, a parte questa, insomma, la di surf, questo è il kit nuovo, nuovo, ormai nuovo no, nuovo perché l'ho aperto adesso, dedicato al mondo del surf, perché, i surfisti, negli anni, settanta, usavano il Volkswagen, il T1, il T2, poi sono passati al T6, questo cos'era, non me lo ricordo, quindi, la Volkswagen, era una classica, macchina da surfiste, anche per gli americani, usavano proprio il furgoncino, perché, era comodo, perché, ci mettevi le tavole, ci dormivi dentro, quindi andavi a fare, un po', il selvaggio, no, perché andavi a caccia di onde, quindi andavi dove, ti capitava, andavi lungo la costa, la California, oppure andavi giù, verso, la bar California, cioè, la parte messicana, no, della California, sono degli spot bellissimi, quindi andavi un po', lo usavi un po' come camper, però, dall'altro lato, era comodo, perché era piccolino, era, ti infilavi dove volevi, e quindi, hanno ripreso un po', questo stile qua, in realtà, con la roulotte così, non è mai stato, cioè, non era una comodità, andare con la roulotte, quindi, è un po' forzata la cosa, però è simpatico, è simpatico, allora niente, questo per, proprio per il periodo estivo, è una bel set, della Matchbox, eccolo qua, Travel Trailer, Volkswagen Transporter, Cub, vedete, bellissimo, serve da pitturare tutte le tavole, farlo come nella, qua nella, vedete, nella grafica, andiamo un po', serve da farlo così come nella grafica, che è colorato, cioè, però, vabbè, interessante, e niente, allora, visto che siamo a Ferragosto, buon Ferragosto, e, iniziamo a fare dei bei video adesso, a 10 auto al giorno, per 10 giorni, quindi, non, non perdetevi i prossimi video, se non è ancora fatto, mi raccomando, lì, iscriviti al canale, su una campanellina, se ti fa piacere, puoi guardare anche quel video lì, eh, ci vediamo alla prossima, ciao, ciao a tutti, a tutti,